Sono andata sul set di un film, cercavano una che facesse la fidanzata di Zorro, ve lo lascio immaginare, appena il regista mi ha visto è impazzito, mi ha detto tu sei talmente brava, talmente bella, che ti do proprio la parte del protagonista di Zorro, non capisco queste risate comunque, che io gli ho detto ma scusi per i baffi come faccio? No no li tenga mi ha detto.